Nell'immaginario di molti la professione della modella rappresenta una vita da sogno, ma in pochi sanno che anni di sfilate, giornate intere sui tacchi a spillo possono arrecare seri danni alla schiena. Quando si spengono i riflettori delle passarelle, ecco come fanno alcuni di loro a rimettersi a nuovo. Io ho scelto di fare pilates perché facendo la modella sono sempre spesso in piedi sui tacchi, cammino parecchio, sono sempre in giro. Da anni facevo comunque qualsiasi tipo di ginnastica, sempre leggera perché appunto avendo problemi un po' di scogliosi e di lordosi non potevo fare esercizi pesanti, però non trovavo mai dei miglioramenti veri, seri. Tant'è vero che adesso, nonostante gli anni siano passati, però con la schiena io sto meglio adesso di qualche anno fa. Ma cos'è il pilates? E per chi è indicato? Il pilates è un metodo posturale che possono praticare tutti, non ci sono controindicazioni particolari. Adesso vediamo che piano piano si stanno sdoganando anche gli uomini finalmente perché capiscono, non sono più legati soprattutto in Italia allo stereotipo palestra, macho, ma capiscono che invece il vero benessere è quello del pilates. A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti